Chi cerca Dio lo trova nell'amore e il Vangelo di oggi ci dice che è lo Spirito Santo ad aiutarci a fare questo, oltre ovviamente a padre Ernesto della Corte che ritroviamo come sempre puntuale in conversazioni bibliche. Buona Pasqua della settimana! Buona Pasqua della settimana carissima Anna Maria, io ti ringrazio sempre, hai sempre parole molto affettuose per me, ma anch'io sono un povero peccatore che chiede sempre allo Spirito di mettergli le mani sulla testa, perché senza di lui noi non possiamo far nulla, hai detto bene, lo Spirito è l'amore e ancora una volta, come dicevamo domenica scorsa, noi siamo ancora una volta davanti a questi discorsi dell'ultima cena, il primo discorso è proprio il capitolo 13 e il capitolo 14, domenica scorsa abbiamo visto il capitolo 13 e Gesù tiene questo primo discorso proprio in continuazione a quello di domenica scorsa, a Filippo ha dichiarato di essere lui l'icona del padre, chi vede me Filippo vede il padre e poi ha dato un'assicurazione ai discepoli, io non vi lascerò orfani, non vi lascio soli, perché nel Cenacolo quando Gesù ha accennato con queste parole un po' misteriose, un fremito ha scosso il cuore dei discepoli, hanno avuto paura di perderlo, ecco perché a questo punto c'è una domanda fatta da Giuda, non l'iscariota quello che lo ha tradito, ma l'altro Giuda, che la liturgia non riporta, ma è bene inserire, perché Giuda gli ha chiesto, signore, com'è possibile che tu voglia manifestarti a noi e non al mondo? È una domanda interessante quella di Giuda, peccato che la liturgia la tagli, perché è il versetto proprio precedente a quello che leggiamo noi. Che cosa vuol dire qui? Si tratta della manifestazione pasquale che il risorto darà ai discepoli, perché la darà ai discepoli da lui scelta, anzi alle discepole e ai discepoli e non può dare al mondo, perché? Perché il mondo non si relaziona con lui e qui la parola mondo, cosmos, indica tutte quelle persone che non sono in Cristo, che non si mettono in relazione con lui, non lo amano. Ecco dice Giuda, per cui nella mentalità del quarto Vangelo il mondo qui rappresenta, ieri come oggi, quelli che non accolgono il Cristo, che non pongono fiducia in lui, quelli che sono chiusi alla parola, quelli che non vivono nell'amore. Il quarto Vangelo riafferma proprio con molta forza che l'incredulità impedisce ogni forma di relazione. Chi non crede si chiude a ogni conoscenza. Ecco perché il peccato, secondo Giovanni, è al singolare. Qual è il peccato? È il non credere. E Gesù vuol far capire a Giuda e agli altri discepoli che non c'è contrapposizione tra i gruppi. Piuttosto ogni persona è chiamata ad amare, come dicevi giustamente tu all'inizio. E chi ama osserva la parola ed è amato dal padre, cosicché poi il padre e il figlio prendono dimora in lui. Questo è uno dei capitoli più meditate dei mistici. Quando noi siamo in Gesù Cristo, Gesù e il padre abitano dentro di noi. Chi accoglie la rivelazione di Gesù? Su chi accoglie questa rivelazione? Viene proprio corrisposta questa effusione dell'amore divino. Per cui davvero nel credente c'è la presenza di Dio. E la dimora è preparata e vissuta nella storia, qui ed ora. Noi siamo preparati dallo Spirito per gradi, per frammenti, perché ognuno di noi possa arrivare alla completezza della propria umanizzazione. Il che vuol dire che noi credenti non dobbiamo fare un errore. Spesso il devozionismo ha fatto fare questo errore di uscire dalla storia. È assurdo. Il mondo di cui parla Giovanni è una mentalità, è uno stile di vita negativo che non dobbiamo assumere. Ma noi non dobbiamo uscire dalla storia. Anzi, la storia è la sposa del cristiano. Noi dobbiamo amare Dio e i fratelli in questa storia, nel tempo in cui viviamo. Non possiamo incontrare Dio al di là. Lo dobbiamo incontrare oggi, perché nella nostra esistenza storica, nella nostra comunità, Dio entra per metterci in relazione. Ecco perché la Pasqua è un tempo di grazia per sperimentare questa presenza. E chi la realizza questa presenza? Lo accennavi proprio tu, Anna Maria Prima. La realizza lo Spirito. Ecco perché Gesù diceva ai discepoli «Non siate tristi, non vi lascio orfani, vi do un altro paraclito». Per cui lo Spirito rende presente e visibile nella comunità il Signore Gesù. E quindi ancora una volta, vedete, Gesù nella cena, per la seconda volta, dopo il primo discorso, dopo la prima volta, riafferma che ci darà lo Spirito. Perché il Cristo, una volta che viene innalzato, sospeso sulla croce, Giovanni gioca su questo verbo iupso, che da una parte significa essere crocifisso, significava essere sospeso sulla croce, ma dall'altra parte significa essere intronizzato. Il Cristo davvero regna da quella croce e da quella croce, nella forza dello Spirito, ci offre il suo amore. Quindi proprio da quella croce ci darà lo Spirito. Lo accennavamo domenica scorsa, quando in 1930, in Giovanni 1930, chi nato il capo consegnò lo Spirito. Il primo dono alla comunità nata sotto la croce è proprio lo Spirito. È giunto il tempo di Gesù, cioè il tempo di portare a compimento tutte le parole e le azioni ricevute dal Padre. E questo tempo, inaugurato proprio con il momento di passione, morte e resurrezione, inaugura un tempo nuovo. Qual è questo tempo nuovo? È il tempo della presenza dello Spirito, che lega Gesù e alla sua opera. Ecco perché anche il Paraclito è inviato dal Padre. Come Gesù rivela il Padre, evidentemente così lo Spirito svela Gesù tra i credenti. Per cui, qual è la funzione allora che ha lo Spirito Paraclito? Dice Gesù, insegnerà ogni cosa, quindi è il nostro maestro interiore, e poi ci farà fare memoria di tutto quanto aveva detto il Cristo quando era in mezzo a noi. Quindi lo Spirito, possiamo dire, tiene vivo, rende presente tutte le parole e le azioni di Gesù. È lo Spirito che apre la mente alle parole del Cristo. È lo Spirito che produce dentro di noi quella sapienza, quell'insegnamento, che si manifesta poi nell'istruzione e nella predicazione operata dalla comunità. Ecco perché ciò che ha rivelato Gesù, per opere dello Spirito Santo, viene continuato dalla Chiesa. Questa è l'unica ed eterna missione della Chiesa, fino a quando Egli ritornerà. In queste pagine Gesù dice dove lo possiamo trovare, incontrare e riconoscere. Certo, lo Spirito ci aiuta a riconoscerlo e a sentire che quando la parola è dentro di noi, il padre, il figlio, lo Spirito dimorano dentro di noi. È il mistero grande del cristiano come l'arca dell'alleanza. Ognuno di noi diventa un tabernacolo, se osserva però quella parola. Ecco allora il grande impegno di dover costruire giorno per giorno, giorno per giorno, lottando contro se stesse e contro quel male e quel peccato che ci assediano, come diceva la bella espressione della lettera degli ebrei, noi siamo assediati. Ecco perché chiediamo continuamente non farci cadere nella prova, stacci vicino nella prova, perché senza lo Spirito e l'aiuto dello Spirito noi non possiamo vivere. Paolo direbbe che la vita cristiana è vita nello Spirito. Ne parla al capitolo 12 della Lettera dei Romani. Quindi è questo l'itinerario che giorno per giorno dobbiamo fare. E io più vado avanti, più lo dico come convinzione di cristiano, non tanto di biblista, che senza la parola e senza l'eucaristia. Noi siamo perse, ma tutto inizia dall'ascolto. L'ascolto ci porta alla conoscenza, la conoscenza ci porta a ricevere quello Spirito di Dio che ci aiuta a vivere tutto quanto Gesù ci ha lasciato come traccia per arrivare alla vita eterna. Siamo persi, è vero. E l'importante è esserne consapevoli. Grazie Padre Ernesto anche per oggi. Grazie a voi e buona Pasqua della settimana. Shalom. A te, shalom.